Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Talk Sicilia per questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di approfondimento per affrontare i fatti che riguardano la Sicilia e le sue città sotto tutti i punti di vista. Oggi parliamo di politica ma di politica che sia vicina anche a quello che significa stare vicina alla gente, al territorio e il nostro ospite gradito è Michelangelo Gian Siracusa sindaco di Ferla ma è qui con noi nella qualità di commissario regionale di azione in Sicilia. Buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie, grazie a voi. Abbiamo intitolato questa puntata quale futuro per il terzo polo in Sicilia perché lo sappiamo chi segue le cose della politica sa che nelle ultime elezioni alla regione siciliana ma non soltanto in un esperimento che è stato nazionale che si è tentato anche in svariate altre realtà locali non si sono presentati soltanto i due tradizionali poli il centro-destra e il centro-sinistra sia pure con un centro-sinistra che si è spaccato con i 5 stelle che si sono separati dal PD ma si è presentato anche quel terzo polo che per un certo verso vuole essere centrista per altri versi forse non è esattamente così ma è un terzo polo che nasce almeno nella prima fase da una sorta di avvicinamento fra due realtà che sono quella di Matteo Renzi e quella di Carlo Calenda quindi azione da una parte quindi Italia viva dall'altra un terzo polo che adesso sta avendo un risultato che abbiamo conosciuto magari adesso cominceremo ad affrontare ma che sta vivendo un periodo nel quale diciamo non si sa bene dove va è vero o sbaglio? Intanto il terzo polo è una come diceva lei una creazione delle ultime politiche in regione abbiamo sperimentato la candidatura di Gaetano Armao ovviamente una candidatura che è nata in meno di un mese e questo abbiamo pagato il prezzo di questa candidatura la candidatura è una candidatura autorevole, riconoscibile le competenze di Gaetano Armao sono riconosciute trasversalmente ma era una costruzione complicata perché i due partiti avevano delle come dire anche difficoltà diciamo pregresse che poi si sono scontrate proprio nel momento elettorale devo dire che nonostante questo il tema delle politiche lo abbiamo portato a casa con un risultato diciamo dignitoso in alcune città come è accaduto anche quello di azione di Tel Aviv è un voto che si diversifica tra il centro e la periferia ad esempio questo è accaduto anche in Sicilia per esempio ci sono risultati come quelli di Siracusa città dove il partito, la coalizione ha retto bene in altri contesti meno il tema delle regionali era un tema molto più complicato perché c'erano dei candidati molto forti e delle coalizioni soprattutto quella di centrodestra che si preparava alle elezioni da tempo quindi era difficile come dire scontrarsi contro una corrazzata credo però che abbiamo segnato in alcuni territori la presenza penso ad Agrigento, penso a Siracusa e anche a Palermo in alcuni contesti ci si è difesi in altri meno è insomma una delle ragioni come dire che poi ha portato anche il nostro segretario di azione a fare un passo di lato Gian Giacomo Palazzolo come dire a rimettere l'incarico è stata quella di rilanciare il partito attraverso questa fase nuova che vede questo commissariamento che è un commissariamento collegiale in Sicilia che mi vede guidare questo processo anche di avvicinamento poi a qualcosa di più ampio che il terzo polo con le difficoltà di due realtà che sono realtà che nascono in maniera differente in due momenti storici anche diversi quindi andiamo verso questo partito della nazione che è qualcosa che va oltre la sommatoria tra i due partiti che sono appunto Italia Viva e Azione e questo forse è il primo grande tema da affrontare perché quando parliamo di terzo polo si parla sempre di un'alternativa ai due poli quando non vengono più riconosciuti dal parte dell'elettorato come appunti di riferimento ma questo terzo polo nasce da due anime e ancora oggi mostra due anime spesso neanche troppo vicine fra loro sì però io su questo diciamo del terzo polo io penso che in realtà ci sia non solo bisogno del paese di terzo polo ma quello che è accaduto dopo le elezioni forse parlarne prima è stato prematuro ma adesso quello che sta accadendo almeno per quello che abbiamo visto in questi primi cento giorni di governo Meloni è il panorama politico anche del centro-sinistra ha polarizzato in realtà da un lato il partito del premier Meloni quindi Fratellita e dall'altro lato i 5 Stelle che hanno ritrovato nuova linfa il PD sta attraversando delle difficoltà che sono oggettive da un punto di vista anche dei sondaggi quindi la necessità di una proposta politica che sta in mezzo a questa polarizzazione credo che sia necessaria per il paese è una proposta legata al tema delle competenze al tema di dire la verità, di dire le cose come stanno e non del populismo che non ha portato a nulla ed è ovvio però perché questo non lo sottacciamo che nella costruzione di questa casa che è la casa dei moderati, dei riformisti, dei liberali è ovvio che come dire ci sono delle anche differenze che nascono ripeto da due esperienze diverse quella di Matteo Renzi e quella di Carlo Calenda e credo che l'intuizione che ha avuto il leader nazionale Carlo Calenda di parlare di partito della nazione anche mista delle europee serva anche un po' come avvenne molti anni fa io sono un nostalgico della Margherita quando si costruì quel contenitore era un contenitore che diciamo come dire metteva insieme pezzi ma andava anche oltre la proposta di una sommatoria di partite e quindi di classe dirigente e quindi di apparati ed è un po' quello che vuole fare Carlo Calenda a livello nazionale andando oltre la sommatoria di una classe dirigente dei due partiti questo è quello che un mi auguro da altro possa accadere anche in Sicilia anche la fase di questo commissariamento servirà a costruire e lo stiamo facendo in ogni provincia dei comitati che traghetteranno il partito verso prima un tesseramento e un congresso del nostro partito e poi verso il terzo polo e mi auguro che sia questa la prospettiva perché altrimenti ancora una volta abbiamo come dire sbagliato l'obiettivo ed è un po' quello che è accaduto anni fa proprio tra la Margherita e i DS e quelle due famiglie non sono poi mai mai riconosciute in un progetto più ampio che era il Partito Democratico e non c'è il rischio che questo succeda di nuovo perché quello che si sta vedendo da osservatore io vedo due partiti che stanno all'interno di un ipotetico contenitore definito forse con un tratto di penna ma che continuano a promuovere iniziative in maniera parallela se non divergente io credo che questo sia un processo che porterà a un risultato nel tempo c'è un accordo di federazione nazionale proveremo a tradurre questo accordo di federazione nazionale anche a livello locale noi proporremo ad esempio ai nostri compagni di viaggio appunto un patto di preventiva consultazione rispetto a quello che accade nei territori per le amministrative piuttosto che diciamo a delle regole di ingaggio chiare ed è un po' quello che sta avvenendo a livello nazionale in un processo di integrazione costante che non è ripeto semplice nessuno sottace diciamo questa difficoltà ci sono delle difficoltà in alcuni territori penso a Palermo, penso a Siracusa ci sono delle obiettive divergenze in alcuni contesti io mi auguro che ci sia il buon senso da parte di tutti per superare e per dare un messaggio di unità ma soprattutto di prospettiva perché ribadisco credo che ne abbia bisogno il paese e soprattutto la Sicilia perché io credo che se a livello nazionale il bilancio di questi primi 100 giorni è fallimentare non si può dire diversamente di quello regionale abbiamo assistito a degli scontri interni anche adesso nelle ultime ore sul tema della finanziaria mi dicevano stamattina che ci sono difficoltà probabilmente nella maggioranza a quadrare una maggioranza che possa provare lo strumento finanziario quindi credo insomma che dobbiamo lavorare per costruire l'alternativa con le difficoltà che ci sono in un processo di integrazione non semplice da gestire ma che proveremo insomma con buon senso appunto a governare l'esperienza che avete fatto alle ultime elezioni regionali e poi passiamo a parlare delle amministrative che comunque incombono perché è così che stanno andando le cose ha portato sia pure in velocemente perché è stata una campagna elettorale come giustamente accennava che è durata un mese o poco più oltretutto in un periodo difficile perché è venuta in pieno agosto se si presentava un candidato presidente della regione riconoscibile come Gaetano Armao perché veniva dall'essere vicepresidente della regione uscente forse si è sbagliato qualcosa nel comporre la lista intorno a Gaetano Armao perché il risultato che è arrivato è forse inferiore all'aspettativa almeno dal punto di vista della lista sì diciamo che nessuno può sottacere il fatto che appunto l'alleanza a livello nazionale è arrivata a ridosso delle politiche e c'erano già pezzi di Italia Viva in particolare che avevano già avuto come dire interlocuzioni con altri contenitori con altri movimenti politici e questo poi si è tradotto in una debolezza complessiva delle liste in una responsabilità che secondo me è come dire di tutti perché anche noi avevamo delle difficoltà in alcuni contesti e quindi è stato difficile realisticamente costruire le liste io ringrazio tanto Gaetano Armao perché ha fatto insieme a chi lo ha codiuvato anche nell'organizzazione nella raccolta delle firme è stato un processo velocissimo da gestire in un contesto ripeto altamente già drogato da quello che c'era prima della nostra alleanza e quindi questo ha condizionato fortemente il risultato finale nonostante appunto una campagna elettorale ricca anche di contenuti nel breve tempo che abbiamo avuto a disposizione di questo lo vorrei dire io non ho sentito in quella campagna elettorale altri candidati presidenti proporre questioni nel merito come invece ha fatto Gaetano Armao e questo insomma sicuramente diciamo poi va invece in contraddizione con un risultato che non è arrivato siamo in una fase infatti di costruzione nuova da un lato e dall'altro lato ribadisco pezzi del partito diciamo di Italia Viva hanno fatto altre scelte nei territori perché già l'avano fatta in precedenza e quindi questo è sicuramente è stata una contraddizione che abbiamo dovuto in qualche modo subire credo proprio per le ragioni e per quello che è accaduto che affinché non si ripeta quello che abbiamo vissuto di recente bisogna costruire oggi una classe dirigente che sia una classe dirigente che abbia quell'obiettivo quella di governare questa regione e iniziare a pensarci per tempo con una piattaforma programmatica seria con una modalità di costruire appunto la classe dirigente in maniera non legata al consenso immediato ma invece a un radicamento nei territori noi stiamo per esempio come azione cercando di intercettare in tutti i territori esperienze legate ai consigli comunali alle amministrazioni locali perché riteniamo che come tra l'altro Carlo Calenda a livello nazionale ha fatto lanciando la consulta degli eletti è fondamentale partire proprio dai territori ma da chi amministra i territori cioè da chi ogni giorno come dire è provato nella gestione della cosa pubblica in un contesto vi assicuro quello delle autonomie locali che è fortemente in crisi ormai da decenni io però insisto su questa strada mi perdonerà ma ancora ad oggi vediamo comunque iniziative che sorgono da parte di un partito piuttosto che dell'altro senza che ci sia una strada univoca o una strada comunque congiunta abbiamo visto succedere subito prima delle elezioni regionali alcuni passaggi ci sono stati esponenti importanti che magari erano con azione alle amministrative di Palermo che non lo sono stati poi alle regionali oggi vediamo anche i televizi andare da una parte azione da un'altra allora ci sono come dire per esempio c'è un'iniziativa proposta con la presenza appunto di Italia Viva e diciamo di più Europa in cui noi non siamo stati coinvolti ovviamente sono delle situazioni spiacevoli che vanno chiarite e li chiariremo perché altrimenti come dire l'elettore chi ci osserva dall'esterno non comprende quello che sta accadendo questo rientra ribadisco in quella chiarezza che chiederemo nelle prossime ore proprio a Italia Viva rispetto a delle regole di ingaggio e a un'organizzazione della federazione che in questo momento non c'è ed è evidente e che deve necessariamente esserci perché altrimenti si creano spiacevoli situazioni in cui non c'è una concordia che invece è quella che va ricercata e va ricercata ripeto nell'obiettivo più alto che è quello di dare a questa regione una classe dirigente che sia legata alle competenze a quel cursus onorumo che non è una cosa della campagna elettorale che usa Carlo Calenda ma è il fatto che se tu lo dice sempre Carlo non affideresti mai un bar a chi non ha mai gestito un bar non affideresti mai la cura della tua persona a chi non ha mai studiato per diventare medico come dire sono degli esempi banali che però ci danno l'idea di come è necessario costruire classe dirigente classe di governo di questo paese di queste diciamo delle nostre poi autonomie locali io penso appunto alla regione ma penso anche al dibattito sulle province che è un dibattito che adesso nuovamente si è diciamo è diventato appunto un dibattito di attualità noi ricordiamo e questa è una responsabilità del governo di centrosinistra prima e del governo di centrodestra dopo cioè prima di Crocetta e poi di Musumeci da oltre dieci anni noi siamo senza enti di governo sovracomunale vi assicuro che mentre probabilmente a Palermo a Catania a Messina dove le aree metropolitane hanno governato nelle altre province noi abbiamo o hanno governato hanno sopperito però dico che in realtà questo non è accaduto nelle altre sei province dove abbiamo commissari monocratici da dieci anni che gestiscono scuole e infrastrutture viarie quindi insomma non è una roba di poco conto e su questo noi ovviamente diremo la nostra e capiremo anche quella proposta del governo dell'Assemblea regionale rispetto a questo tema allora siccome io faccio una lista estraggo da tutto questo lungo discorso il titolo che potremmo dare alla trasmissione ovvero azione chiederà conto a Italia Viva delle scelte fatte e diciamo che ci sarà un momento come probabilmente succederà anche al contrario nel senso che ci sono delle cose da chiarire e lo faremo nelle prossime ore perché credo che sia utile alla costruzione del partito della nazione che sarà abbiamo la responsabilità diciamo di guidare questo processo al di là delle come dire criticità che ci sono e che nessuno diciamo appunto dire nasconde e detto questo visto che siamo entrati esattamente ormai finalmente a Gain Batesa in quello che è il grande tema si bisogna guardare a quelle che saranno le elezioni amministrative perché se è vero come è vero che le amministrative a Palermo si sono svolte giugno dell'anno scorso mentre in piena estate si è tenuta la campagna elettorale per le regionali adesso in primavera toccherà alle amministrative per Catania per Siracusa per Ragusa per molti altri centri medio e grandi della Sicilia soprattutto orientale ma non soltanto e quindi quella sarà la grande sfida in cui veramente se esiste o meno questo terzo pollo lo si conterà in Sicilia sì si vota in 130 comuni come diceva lei in alcuni comuni diciamo capoluogo Trapani Ragusa Siracusa e Catania anche lì diciamo a livello nazionale in questo accordo di federazione è previsto che vi sia una omogeneità diciamo della presenza del terzo pollo alle amministrative di primavera non si vota ovviamente soltanto in Sicilia ma in Sicilia si vota in 130 comuni e sarà uno sforzo non facile perché sappiamo già che ci sono delle divergenze in vari territori quello di presentarsi uniti o comunque di avere candidati nelle stesse coalizioni soprattutto nei comuni sotto i 15 mila abitanti dove si vota col maggioritario ma anche nei comuni sopra i 15 mila abitanti cioè avere delle liste che possono mettere insieme le due esperienze ribadisco non sarà semplice ci sono delle divergenze già in alcuni territori però in tanti altri territori posso assicurare che c'è una armonia una concordia che testeremo e sarà il primo test vero e proprio della costruzione di questa casa dei moderati dei riformisti dei liberali in Sicilia che le amministrative di maggio giugno del 2023 ribadisco in un contesto in cui sarà complicato soprattutto in alcune città penso per esempio a Catania dove il centro-destra è molto forte ma dove viene da un'esperienza di commissariamento della città e dove lì dai primi rumor sul centro-destra non riesce a trovare una quadra si parla di tavolo regionale a me questa cosa dei tavoli regionali fa un po' paura perché quando c'è una distribuzione della premiership di una città giocata a tavolino dove due toccano un partito e due un altro sicuramente non è il modo migliore per scegliere la classe dirigente di una città e di città importanti come Catania e quindi insomma è una sfida una sfida nella sfida nel nostro diciamo lavoro di ricostruzione di azione in Sicilia di riorganizzazione ai comitati che stiamo individuando come soggetti che in maniera provvisoria ma come dire già legittimati affronteranno la ricostruzione del partito la riorganizzazione il tema delle amministrative sarà un tema centrale tra l'altro è un tema che affronteremo con una cabina di regia che è quella regionale quindi in stretta come dire collaborazione tra i territori e appunto il commissariamento la mia funzione il mio ruolo è quella delle persone che mi stanno affiancando cioè Gaeta Normau Fabrizio Ferrandelli Francesco Italia Giancione Palazzolo Maria Seli e l'onorevole Giuseppe Castiglione che è l'onorevole eletto in azione nella Sicilia orientale nelle elezioni politiche proprio a Siracusa però si vedono delle fibrillazioni anche degli spostamenti repentini delle possibili candidature anche del sindaco uscente il sindaco uscente Francesco Italia che è membro della segreteria nazionale di azione che tra i soci fondatori di azione del comitato promotore è ricandidato alla guida della città dopo 5 anni di buon governo dell'amministrazione della città di Siracusa e diciamo non c'è al momento una sintesi proprio con Italia Viva in quel territorio ed è una delle criticità che ho sottolineato poc'anzi come altre contraddizioni ci sono anche a Palermo dove come dire Italia Viva è in maggioranza invece in azione è all'opposizione sono tutte quelle questioni che andranno affrontate e io mi auguro trovando delle soluzioni nell'immediato perché questo veramente ci darà la cifra di quello che può essere questo contenitore come credibilità all'esterno nei prossimi mesi è una partita che va affrontata con questa serietà senza fare sconti e con una determinazione che è quella di superare anche gli egoismi diciamo delle parti e andare invece verso una costruzione che sia costruzione seria e che sia costruzione anche lungimirante c'è anche il tema di candidati riconoscibili almeno per le poltroie di primo cittadino faccio l'esempio di Catania ma possiamo fare anche quello di Trapani a Catania giustamente come accennava c'è un centrodestra che non sa scegliere chi sarà il suo candidato ma perché ne ha uno che probabilmente si presenta forte che sarebbe un candidato della Lega una donna e mentre Fratelli d'Italia rivendica la città è territorio dove siamo più forti fra virgolette ma la riconoscibilità da questo punto di vista se la giocano dentro il centrodestra cosa può fare un terzo volo per avere un candidato riconoscibile parimenti a Trapani c'è un candidato che probabilmente sarà uscente avrà il suo peso specifico come fare per rappresentare un candidato riconoscibile e che sia chiaro io credo che Carlo Calenda se vogliamo usare la sua la sua esperienza a Roma così come ha fatto Fabrizio Ferrandelli a Palermo hanno dato una guida rispetto al tema delle amministrative ovvero laddove ci sono dei candidati che in maniera credibile possono rappresentare una terzietà o una proposta politica seria per la città credo che quello sia la linea guida che abbiamo ricevuto e che bisogna perseguire cioè se a Catania così come a Trapani si troverà un candidato che possa rappresentare una diversità rispetto ai poli tradizionali va perseguita quella strada laddove questo non dovesse accadere come non è accaduto in altri contesti e credo che si dovrà andare verso quelle coalizioni che meglio rappresentano i valori del nostro partito questo è successo già è successo alle regionali è successo alle amministrative sta succedendo anche di recente nelle regionali che vedono impegnati vede impegnato il terzo polo in Lombardia e in Lazio con delle composizioni diverse io credo che sia questo anche non so se lei condivide è un momento anche di assestamento generale cioè siamo in una fase ancora di travaglio ma anche di assestamento rispetto a quello che c'era prima delle elezioni politiche a quello che sta accadendo oggi e quello che accadrà già lo si vede in Parlamento ma lo si vede anche rispetto ripeto al tema dei sondaggi che non è banale ma come dire dà la dimensione ripeto di questa polarizzazione che c'è da due lati cioè dal lato sovranista della Meloni e da quello diciamo populista dei 5 Stelle è la costruzione di quello che avviene nel mezzo di questa polarizzazione è una nostra responsabilità e quindi anche rispetto alle amministrative proveremo appunto a dimostrare che siamo in grado di governare questo processo che non è semplice ma queste coalizioni diverse queste alleanze che possono essere variabili non rischiano invece di creare confusione sì ma diciamo sicuramente creano confusione ma ribadisco è nella costruzione di una classe dirigente che poi ambisce a diventare da sola avere come dire la possibilità di avere il governo delle città e il governo delle regioni ribadisco Carlo Calenda a Roma per poco non ci è riuscito ma anche Fabrizio Ferrandelli a Palermo ha dimostrato che è possibile e nella costruzione ovviamente non è un processo che si fa in una stagione questa cosa Carlo Calenda l'ha sempre ribadita cioè nel senso che se la Meloni ci ha impiegato 10 anni a ottenere il 25% dei consensi azione nella proiezione il terzo polo ci arriverà in molto meno tempo perché quello che è accaduto già lo dimostra i sondaggi danno il terzo polo in crescita rispetto sia a superato ormai forse tale ma anche rispetto appunto alla Lega quindi è un processo lento di cambiamento e come tutti i processi di cambiamento ha bisogno anche di ripeto di assestamenti e di momenti di mezzo che sono più difficili da gestire ma sono anche quelli poi fondativi e io mi auguro che questo ripeto possa accadere sia nella nostra regione che a livello nazionale e le amministrative saranno un primo test non sarà diciamo il risultato come dire finale ma sarà un altro test che insieme affronteremo per dare questa guida per provare a dare questa guida alle città della nostra regione e della nostra nazione il tempo è finito una battuta secca quando quale anno è quello che vedrà finalmente una definizione di che cosa è il terzo polo credo il 2024 2024 bene grazie grazie a voi grazie per essere stato con noi a Gian Siracusa grazie a voi che ci avete seguito per questa edizione di Talk Sicilia vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk arrivederci grazie a tutti